che costa Cifaglietti, l'amore libera la libertà nell'uomo e lo rende capace di gioia. Ho avuto la gioia di avere la prefazione del Cardinale Zupp e la postfazione del Cardinale Loiolo e la bellissima presentazione della mia cara amica Beatrice Fazzi. È un testo che viene pubblicato dall'editrice Tao e dalla Lumsah all'indomani del Sinodo dei Giovani ed è dedicato appunto ai giovani e pensavo che niente per la mia esperienza può essere più utile che parlare ai giovani della gioia del Vangelo raccontando qualcosa della mia vita personale e anche diciamo del bagaglio che Dio mi ha donato attraverso la compagnia della Chiesa.